Oltre 4 milioni di euro sottratti dalle casse dell'Uls9, ridotta in appello la condanna alla colpevole del peculato, l'ex dipendente dell'azienda sanitaria Loredana Bolzan, da 11 a 7 anni, da 8 a 5 anni e 8 mesi per il fratello Luigi Bolzan, da 5 anni a 3 anni e 4 mesi per l'amico Massimo Zanta, drasticamente ridotto anche il risarcimento da versare alla Regione Veneto, dai 4 milioni di euro stabiliti in primo grado agli 800 mila del secondo. Lutto all'Oria per la morte del 48enne Gianni Zordane. Erano quasi le 16 ieri quando l'uomo, dipendente di un'azienda dolciaria di Galliera Veneta, in sede alla sua potente Yamaha è giunto all'altezza dello svincolo di Romano Dazzellino sulla Val Sugana. Fatale un sorpasso. Stando alle indagini della polstrada, l'uomo stava superando una Citroen Picasso, quando quest'ultima ha invaso la corsia di sorpasso, stringendo il motociclista contro il Garrail. Terribile l'impatto che ha sbalzato Zordane a diversi metri dalla sua moto, è morto sul colpo. L'uomo molto noto all'Oria lascia la moglie e una figlia, Erika, di soli 21 anni. È ricoverato all'ospedale di Treviso il terzo sci alpinista travolto ieri mattina intorno alle 9 dalla Valanga in Val Fonda nel Bellunese. Nella notte all'ospedale di Trento si è spento l'altro ferito Daniele Costanzovi, 29 anni di Calalzo. Era stato ricoverato in condizioni disperate. Tirato fuori ieri dalla neve già privo di vita invece Tiziano Favero, 44 anni, di Valle di Cadore. Un quarto compagno era invece rimasto illeso e aveva dato l'allarme. Il paziente in prognosi riservata al caffoncello è Mirko De Coll, 36 anni, di Perarolo. Il paziente è ricoverato ieri, è ricoverato attualmente in terapia intensiva ed è in condizioni molto gravi, molto critiche, legate all'insieme della trauma e soprattutto della persistenza al di sotto della colta nervosa. Quindi situazione critica, molto critica. Non c'è pace per le associazioni di volontariato di Mogliano. Nella notte è ennesimo furto in via dello scautismo, stavolta nella sede degli amici del parco. I gnotti intorno alle due hanno forzato la porta d'ingresso del magazzino in cui custodiscono gli attrezzi da giardino scappando con merce per un valore di circa 3.000 euro. Sul caso indagano i carabinieri. Non è la prima volta che la zona viene presa di mira dai ladri.